Ci sono anche equipaggi arrivati dalle questure di Vibo Valenza e di Cosenza per contrastare il dilagare della criminalità predatoria nella provincia Barletta-Andriatrani, con l'operazione Alt'Impatto finalizzata a contrastare i furti d'auto e di motoveicoli, fenomeno che costituisce costante motivo di allarme sociale nell'ambito della provincia. Le attività hanno interessato le città di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie, ovvero le zone dove un'attenta attività di analisi investigativa ha riscontrato che il fenomeno è maggiormente diffuso. In particolare, nei quartieri dove si registra il più alto numero di reati predatori, è stato messo in campo un dispositivo di sicurezza e di controllo straordinario del territorio, attraverso posti di controllo con la presenza di numerosi equipaggi. Complessivamente sono state identificate 2700 persone, di cui circa 350 con precedenti di polizia, controllati 1300 veicoli in prevalenza autovetture e targhe attraverso il sistema Mercurio, predisposti 70 posti di controllo e infine controllate le circa 100 persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale.